buongiorno a tutti amici di facebook e di youtube buona epifinia a tutti guardate qua che bella giornata oggi e c'è pure il geranio che ha sbocciato credibile un sole da primavera come cambia la stagione le stagioni allora io adesso sto accendendo il forno qui che facciamo il pranzo in famiglia siamo in sei qua tutti insieme di solito all'epifania l'epifania porta le feste tutte quante via in teoria in pratica dopo inizia il carnevale si ricomincia a mangiare castagnole ecco l'accensione del forno a legna sembra che arde bene c'è la ventola accesa adesso la la spingiamo poi chiudiamo la porta qua almeno va su di temperatura è andato a 150 in questo momento bisogna portarlo più o meno a 300 ci cuociamo un po di carne sul sesto o sulla teglia con un po di patate fuoco qua procede bene via si sta la legna tocca metterci nera un'altra pose non qui dopo non basta un altro po di un altro po di legna questa dovrebbe portarlo a 250 gradi ok amici ci per il momento mi fermo qua poi vediamo un po che che c'è sul sul sesto a dopo ciao ciao Grazie a tutti